Mi trovo in via Medaglie d'Oro a Taranto per rappresentare una situazione ormai incancrenita da anni. La situazione è ancora più grave che nonostante vi sia questa situazione incredibile nessuno interviene. Qui c'è un dosso artificiale, un rallentatore di velocità che secondo me non è assolutamente a norma, è comunque pericoloso, è strutturato in una maniera stranissima. Vedete, vi sono questi quadrati di gomma che sollevano pesantemente il livello del manto stradale. Rallentare benvenga, certamente, ma non creare queste situazioni pericolosissime. Perché qui una macchina, ma non solo una macchina, ma una moto sobbalza e quindi questo può comportare che il malcapitato cada pericolosamente. Ma immaginate anche un'ambulanza e immaginate la persona che è distesa sulla lettiga. Cosa succede a questa persona? Salta letteralmente in aria perché c'è una pendenza, c'è un'altezza, un livello, l'altezza del livello appunto che comporta il dosso. Il rallentatore è assurda. Guardate qui, sembra di essere sulle montagne russe. A mio avviso questo è un dosso assolutamente illegale, un dosso, un rallentatore della velocità assolutamente da rimuovere. Quindi invito l'assessore Ciraci, invito la polizia municipale, invito chi di competenza a riflettere su questa situazione incredibile. Guardate cosa succede. Guardate, sali e scendi, sali e scendi. Una follia, una follia. Ma non è solo questo in via Medaglie d'Uro. Guardate cosa c'è a pochi metri. Abbiamo dunque lasciato il dosso e qui ci sono le strisce. strisce pedonali. Ora le strisce pedonali sono completamente cancellate, non sono state più rimesse, non sono state più tinteggiate. Ed è un fatto gravissimo, caro Melucci, cara amministrazione Melucci, caro sindaco, perché qui c'è un asilo, qui ci sono gli anziani, qui ci sono le persone che vanno al bar, qui ci sono le persone che vanno al supermercato. Questa è un'area ultra trafficata. È mai possibile che non siete capaci di far tinteggiare le strisce pedonali? Ci vuole tanto? Ecco, vedete una persona attraversa la strada, ci sono persone giovani, meno giovani e senza le strisce pedonali è un bel rischio attraversare. Vero signora? Sono completamente sbiadite. Sì, 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 non si vedono proprio. Eh, signor Melucci, ci vuole tanto a farle tinteggiare? È mai possibile? Che scempio, che scempio! Non sapete fare neanche l'ordinaria amministrazione, tinteggiare un quattro strisce. Manco quello sapete fare, ma che ci state a fare? Meditate cittadini, meditate, da via medaglie d'oro è tutto. Grazie a tutti.